Buongiorno amici, il giorno di oggi è una giornata speciale, oggi fa il sole, stiamo qua nel prato, il giorno di oggi voglio fare 9 minuti di addominali, vamos a diventare questo addomino come una quadricola, vamos a tirare fuori quel squadro con una barra di cioccolato, importantissimo, tenere in considerazione questi tre tip che ti vorrei dire, il primo, la mente, deve prepararte la mente, la mente è capace di costruire, di pensare, di programare, di prendere la decisione, voglio cambiare, voglio migliorare, perché tutto inizia con la mente. Come secondo tip importante, un plan alimentario o una dieta importante, sapere qual è il fabbisogno giornaliero perché se tu ti mangiasi 3.000 calorie e solamente devi spendere 1.500 le altre 1.500 se vanno accumulando certo, però se tu fai un lavoro che è pesante e lo spendi, non c'è problema per quello è importante una dieta un plan alimentare così complementa con la attività fisica con la attività fisica che è il terzo la attività fisica dobbiamo mettere il corpo in stress per ottenere il nostro obiettivo certo, un stress moderato se sei una persona normale te alena 2 a 3 volte a settimana se tu sei un professionista sai che la fatica è più a fondo e non tutte le persone possono resistire la fatica però tu che stai iniziando inizia piano piano allenarti di 2 a 3 volte a settimana da Pablo il giorno è oggi questo 9 minuti di addominale facciamo 30 secondi di esforzo con 15 secondi di recupero io aspetto che tu fassi questo video dell'inizio fine alla fine ok cerco il programma vino il sole che bello il sole che bello il sole eeeh 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 4 3 2 1 il primo il dici 1 abro guarda di fronte plan spider è una bella giornata di oggi sembra che vale più continua continua 30 secondi ok perfetto perfetto nuestro prossimo vamos a fare doppia plan y le vamos a meter un poco de mountain climber doppio plan doppio plan doppio plan guarda 1 2 3 4 nuevamente va salgo 1 2 3 4 e scendo cambio 1 2 3 4 e scendo va se va 1 2 3 4 e scendo se va ok perfecto perfecto 9 minutos de abdomen tu aca se lo repite 2 voltas grande mario grande mario grande 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 ok hace un pochino gambas di rita e andato via il sole e nuestro próximo nuestro próximo su la gamba 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 tra, tra, tra vuole piovere, vuole piovere, vuole piovere però non c'è problema ok, nostro prossimo sempre la terza secuencia, però salgo con piu la gamba su, su la gamba su la gamba va, ta, su, ta su, ta, su ta, su, ta su, ta su, ta su ta 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 su ok, 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 ok vamos a fare un poquino de oblicuos oblicuos, oblicuos oblicuos, salgo, tra salgo, chintura girovita girovita, se va ah, ah ah, ah se, se 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 cambio, cambio, cambio de lato cambio de lato, vado ya guardo de lato, guardo de lato lado oposto lado oposto 3 prepárate ah 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 se 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 ok vamos a continuar siempre con oblicuos nuestro próximo encuesta posiciones vamos a hacer este movimiento gomito toca ginocchio gomito toca ginocchio ok vale lo cual cueste ye tra dietro ta dietro ta dietro ta dietro ta dietro ta dietro ta dietro si ta dietro ta pueden modificar puedo dar encuestas y volvió tra 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 cambio 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 tu lo repite almeno tre volte a casa tre volte nuestro próximo nuestro próximo gamba su, gamba su voy a espiñar con la mano espiño con la mano tra, tra tra, tra si, 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 si C C C C Madre di Dio 60 che fare? Alzo il piede con le due mani toco la punta del piede alzo i due piedi di questa forma devo toccare Devo toccare Devo toccare Io 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 Toco toco Dietro dietro Ah Ay 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 Plan 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 Mano contraria Toca pie contrario Madre di Dio Toco 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 non lo ripeto a due volte io lo potrei ripetire al che tre volte però non voglio che il video si diviente così troppo lungo grazie mille a tutte le persone che si hanno allenato con con fisima in questo canale le ricordo lo che detto prima la mente la mente un plan alimenticio e il ejercicio fisico 3 cose fondamentale si volemo desarrollare tutto in questa vita demagrire meternos in forma è importante la mente la alimentazione e la attività e fisica così logramos un buon balance un buon equilibrio de cuore Pablo molto bene grazie a tutti grazie a tutti